Buongiorno a tutti, allora tornano, signori ho anticipato, abbiamo anticipato oggi perché le partite si giocano giovedì, però ho detto dai lo facciamo subito così non ci pensiamo più, facciamo la nostra bella figurella, vedremo come andrà, almeno sapete cosa dico, fate l'opposto e siete felici, comunque partiamo subito, schedina e bollettina del gigione per la nostra serie A che torna in campo giovedì, l'unico campionato che giocano al giovedì, gli altri riprendono poi venerdì sabato domenica, noi giovedì, allora Bologna Inter 2, Atalanta Torino 1, Fiorentino Udinese 1x, Juventus Napoli x, Lazio Empoli 1-2, folle perché comunque la Lazio è favoritissima, però ho voluto fare questa cosa un po' folle, Milan Roma 1x, Saldoria Venezia x2, scusate Salernitana Venezia x2, Saldoria Cagliari 1, Sassuolo Genoa 1, e Spezia Verona x, schedina alternativa, Bologna Inter over 1 e mezzo, Atalanta Torino over 2 e mezzo, Fiorentino Udinese gol, a mio rischio e pericolo, Atalanta Napoli gol, cioè Atalanta Napoli, Juventus Napoli gol, Lazio Empoli gol, Milan Roma gol, Salernitana Venezia a mio rischio e pericolo gol, Saldoria Cagliari over 1 e mezzo, Sassuolo Genoa over 2 e mezzo, e Spezia Verona a mio rischio pericolo gol, andiamo a vedere che partite ho scelto per questa, bollette ho scelto Saldoria Cagliari, Lazio Empoli, Sassuolo Genoa e Fiorentina Udinese, quindi partiamo subito con la bolletta delle fisse, come vi dico sempre è la bolletta delle fisse quindi io non posso mettere doppie ma consiglio 1 o 2 doppie anche in questa bollettina, se vi piace così la lasciate così, Saldoria Cagliari 1, Lazio Empoli 1, Sassuolo Genoa 1, Fiorentina Udinese 1, con 5 euro se ne vincono 41,50, bollettina numero 2, Saldoria Cagliari multigol casa 1,3, Lazio Empoli multigol casa 2,4, Sassuolo Genoa multigol casa 2,4, Fiorentina Udinese multigol casa 1,3, con 5 euro se ne vincono 21,60, bollettina numero 3, Saldoria Cagliari 1,X Piover, Lazio Empoli 1,X Piover, Sassuolo Genoa 1,X Piover, Fiorentina Udinese 1,X Piover, con 5 euro se ne vincono 18,87, opzione numero 1, perché naturalmente questa bollettina qua si presta alle opzioni, lo sapete oramai per chi mi segue, Saldoria Cagliari 1,X Piover, Lazio Empoli 1,X Piover, Sassuolo Genoa 1,X Piover, Fiorentina Udinese 1,X Piover, con 5 euro se ne vincono 25,26, opzione number 3, Saldoria Cagliari 1,X Piover, Lazio Empoli 1,X Piover, Sassuolo Genoa 1,X Piover, Fiorentina Udinese 1,X Piover, con 5 euro se ne vincono 33,30, gli over come sempre sono over 1,5, poi magari me lo chiedete perché qualcuno nuovo che capita sul mio canale così per caso e mi dice scusia, gli over 1,5, bollettina number 4, quella che a me fa libidine, Saldoria Cagliari 1,X Piover, Lazio Empoli 1,X Piover, Sassuolo Genoa 1,X Piover, Fiorentina Udinese 1,X Piover, con 5 euro se ne vincono 17,34, bollettina numero 5 e mi tocca pure fare le imitazioni, visto il tempo direi di fare un bel pozzetto dannata, va, della serie del contadino, no? Il ragazzo di campagna, sì 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 sì, Saldoria Cagliari, gol Piover, allora i casi sono due, ho mandato giù i cammelli e un po' d'acqua, eh, Lazio Empoli, gol Piover, ecco, va bene così, va bene così, eh, grazie, eh, ma va bene così, Sassuolo Genoa, gol Piover, basta, acqua, basta, 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 acqua, Fiorentina Udinese, gol Piover, basta, acqua, basta, 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 comunque con 5 euro se ne vincono 70,27, avrete già capito che i gol Piover sono tutti favoriti, vediamo se faranno libidine o no. proseguiamo con la bollettina numero 6, Saldoria Cagliari 1 più gol, Lazio Empoli 1 più gol, Sassuolo Genoa 1 più gol, Fiorentina Udinese 1 più gol, con 2 euro se ne vincono 193,29, con 5 euro 483,24, però attenzione, attenzione, ne ve lo dico tra un attimo, dicevo, attenzione, perché Saldoria Cagliari e Fiorentina Udinese il gol non è favorito, non di molto, eh, c'è una differenza minima, però il gol non è favorito, indi per cui bolletta alternativa. Saldoria Cagliari 1 più 1 gol, Lazio Empoli 1 più gol, Sassuolo Genoa 1 più gol, ma pensate, Sassuolo Genoa è perfettamente alla pari, quindi potete scegliere voi quella che vi acchiappa di più, il gol o il no gol, e il Fiorentina Udinese 1 più 1 gol, perché appunto c'è una differenza, quella maggiore, 0,50, clamoroso che pensino che una delle due squadre non sedi, io, Fiorentina Udinese, vedo minimo un 1 a 1, minimo, si parte dall'1 a 1 e poi si va avanti, magari era più Saldoria Cagliari o Sassuolo Genoa, che Genoa e Cagliari magari il gol in trasferta fanno un attimino, tra virgolette, più fatica a farlo, ma invece è così, quindi replay, la bollettina alternativa è Saldoria Cagliari 1 più 1 gol, Lazio Empoli 1 più gol, Sassuolo Genoa 1 più gol, ma vedete voi quello che vi piace di più, tanto sono uguali, cambia niente, e Fiorentina Udinese 1 più 1 gol, in questo caso con 2 euro se ne vincono 153,30 e con 5 euro 383,26, inutile che vi dica che anche per questa giornata mi aspetto una trentina di reti, nelle 10 partite, nel globale delle 10 partite, sempre che non ci sia qualche rinvio per Covid. Per ora erano tutte giocabili sulla piattaforma better, anzi l'automatica better, quindi non credo ci siano rinvii, però qualora togliete 3 gol, cioè se non giocano una partita puntiamo a 27 reti totali, 2 partite 24, c'è una media di 3 gol a partita, io credo che in una media del genere della prossima giornata si possa tenere tranquillamente, vedremo, vedremo cosa succederà, detto questo ragazzoli, io vi saluto, vi ringrazio, ho anticipato così avete tutto il tempo per studiarvi, fare, brigare, creare, eccetera eccetera eccetera, come vi dico sempre, create, non copiatevi al 100%, estrapolate e createvi una bollettina libidine vostra, che è la cosa migliore, poi se invece vi piacciono le mie, vi fomentano o che cosa, potete tranquillamente copiare le mie senza nessun problema, però usate sempre la vostra cabeza, come vi dico sempre, detto questo, ciao!